Un successo in rosa e non poteva essere altrimenti. La quinta edizione del Bosco in Rosa ha portato nel parco di Capodimonte 700 runners, accompagnatori e bambini che hanno invaso l'area dell'Istituto Caselli del parco settecentesco voluto da Carlo III di Borbone. Una festa di colori nei quali il rosa spiccava e con il rosa anche il rosso della rappresentativa Under 10 del Napoli femminile che ha fatto da apripista la gara. A transitare per prima sotto lo striscione d'arrivo della quinta edizione del Bosco in Rosa, anche se si trattava di una passeggiata non competitiva, la puteolana Francesca Maniaci Atletico Marcianise che ha chiuso i 4.4 chilometri del percorso in 17 minuti. Alle sue spalle un tocco di internazionalità con l'Aurosbury, runner della Connecti Cutting Force al US Navi di Glicignano. Terza Simona Faiella, poi la grande fiumana in rosa tra grandi piccini nonne passeggini, al via tra le tante donne e dai due mesi agli 84 anni anche la vicepresidente della Federatletica Campana, Amalia Di Martino.